Poco dopo l'una di notte, domenica 22 settembre, è crollato il vecchio cavalcaria di svincolo di Torre Nova a Roma. Il cedimento è avvenuto all'altezza di Tor Vergata, sotto il peso di due gru che stavano lavorando per la demolizione. A seguito del crollo anche i mezzi sono precipitati, sempre fortunatamente senza gravi conseguenze per i lavoratori che si trovavano all'interno. Per consentire la demolizione era stata chiusa la D19 di Ramazione Roma Sud dalla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Torre Nova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare in entrambe le direzioni. A seguito del crollo l'intero manto autostradale sottostante è stato invaso dalle macerie. Nooo, yo l'ho detto, eh. Guarda, guarda. Yo l'ho detto. Nooo. C'è. Ma menomale che sono solo scivolate a cop wandare. Noo. Noo.